Gianluca Piccoli, centrocampista che è arrivato appunto dalla Giannerminio in una realtà, quella di Livorno, completamente diversa. Sì, diciamo che è un onore essere qua, in questa piazza che mi motiverà ancora di più a dare il 100% in campo. La Giannerminio sia in realtà molto piccola, ma sana, con dei valori, con persone competenti e preparate, quindi colgo l'occasione per ringraziare di questi due anni perché è veramente una società dove si sta bene e con persone veramente con valori. Tra l'altro nel centrocampo di Livorno c'è un'unica certezza che si chiama Gazzi, il resto è un po' tutto da riscrivere. Quali sono le sue caratteristiche? Innanzitutto ho visto per la prima volta dallo stadio a Gazzi e mi è veramente impressionato per la solidità di giocatore che è. Le mie caratteristiche sono di un giocatore aggressivo che fa appunto del sacrificio il suo marchio di fabbrica e spero di riuscire a dimostrare in campo e ad aiutare i miei compagni.